Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video e scusatemi se da tantissimo tempo che non faccio video perchè siamo super occupati con i figli e non abbiamo fatto niente di Natale scusatemi, scusatemi non abbiamo fatto niente di Natale per favore, perchè Natale abbiamo ricevuto dei golli bellissimi come una che vi mostrerò oggi che sarebbe una review di questo fantastico orologio platino che è bellissimo poi vediamo un review e ragazzi vi voglio spiegare che domani è il film cioè una roba wow, domani o dopodomani non lo so sarà una roba bellissima e il trailer uscirà oggi, vi puoi vedere lo farà oggi vi ne tiago come tutti i giorni e ragazzi ci potete vedere in ci potete vedere nel suo canale tag immersanti e potete vedere i video che abbiamo fatto insieme perchè sì che stiamo facendo video però pochi, capito? e ragazzi comunque questo è il vlog numero 4 credo o 5, 4 credo, 4 o 5 ragazzi, guardate, guardate, io personalmente credo che abbia fatto uno sforzo grandissimo per Power Zero durerà tipo 20 minutini o 25 minutini, durerà pochino però se è un film bello, bello, bello ci saranno cose nascoste di vita quotidiana anche una cosa che metteremo su perchè ci saranno delle sequel ovviamente perchè ci saranno molti segreti nascosti che voi dovete indovinare tipo una caccia tesoro voi pensate ma questo non c'entra niente mi vedete sì che c'entra non c'entra niente vabbè no sì che c'entra allora ragazzi faremo vediamo se si carica fra un po' bisogna lasciarlo caricare bene lo dobbiamo lasciarlo caricare così e credo che dobbiamo fare così credo ragazzi va bene lo lasciamo così a caricare ragazzi perchè vedete è questo e qua no abbiamo pochissima materia quindi no credo che è meglio il 27 del 12 come potete vedere aspetta non si vede bene allora si vede no non si vede tutto bianco vero allora ragazzi qua ma lo vedete queste strisce allora così così lo vedete 27 sono scema ma scusatemi scusatemi veramente scusatemi scusatemi mille ma tua nonna sono 10 45 poi non lo so e voilà aspetta eeeh se lo vedete ecco si eh ragazzi ci sono molte ah è vero non so come ricaricare la batteria ragazzi io lo spengo ragazzi non so come si ricarica la batteria cioè in due in tre giorni questo scimino si è scaricato la batteria e non so qual è ragazzi però ho il libretto quindi vi posso dire che servono tutte le applicazioni vado ok eccolo qua eeeh posso mostrare tutti quelli eeeh ok robe 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 ok la prima è camera che sarebbe questa qua questa qua e la camera poi c'è video che sarebbe questo qua è tutto blu come era? prima era tutto blu poi rosso allora così questo è il video presentazioni che sarebbero una galleria questo qua e come si dice per registrare voci ok così è questo qua la tipica poi c'è giochi sono questi qua detettore di mostri che puoi fare la realtà aumentata e cacciare dei mostri io ne ho già tipo 10 mostri o 9 mostri collezionati così e poi potenziatore di intelligenza che poi ti metto il tuo livello questo qua e poi facci divertenti questa che tu fai una faccia e te la mettono con tipo bocche grandi lingua uova qua è bellissimo dopo creatore di immagini perché qua puoi fare un'immagine e metterla sull'orologio che abbiamo visto prima poi poi sfida nel movimento trekking praticamente questo qua che puoi fare molte attività poi podometro questo io la chiamo imagination room perché c'è c'è la spada laser e tu puoi fare così e ti fanno lo suono della spada laser è una figata assurda c'è tipo le zambe di elefanti volare andare così ok così piccoli piccoli poi c'è anche la bocchetta magica e la spada laser e poi ci sono tipo 5 ed è bellissimo raga bellissimo raga bellissimo raga bellissimo facci troppo bello bellissimo raga bellissimo raga bellissimo raga bellissimo raga bellissimo raga ok buono eh ragazzi io vi mostro una cosa ok questo pensate che wow ci si è comprato una lexa si una lexa ma voi siete proprio fuori voi siete fuori o vi succede qualcosa di grave è un portalenti della fotocamera di mia madre ok non è un'alexa anche se sembra mi potrei pensare che non è un'alexa è pure provato a fare lo scelulo alexa alexa apri finestra alexa metti musica heavy metal e sto cavolo è senza batteri e vabbè e poi dove eravamo ah ok qua il podometro e va bene poi 13 e tools tipo questo per fare il calendario timer queste cose poi c'è le ore che sarebbe queste qua per imparare le ore perché ve lo dicono poi 15 per scaricare giochi e funzionalità dall'esplora park e importazioni va bene è molto facile e poi se scorri così poi possono dirti le ore a voce e se fai così ti possono poi scegliere il suono se vuoi silenziarlo così è tipo una cosa facile ok poi ti dicono come usare ogni applicazione facciamo la capera uno aspetti cioè non c'è in italiano perché non posso tradurre perché questo è tutto in spagnolo vabbè non dico in spagnolo modo spagnolo modo spagnolo ole modo spagnolo hola a todos sono Francesca e mi voglio all'ero tutto questo perché sì perché mi va la vana a ver camera può essere molto disparato per entrare modo camera ose il botone disparato seria este vale con la camerita e questo seria per la casa ose hai due botone vale muy sencilla puoi il botone disparato o toco il icono ma ose la foto la foto me entendais para hacer una foto por ser botone es para hacer para hacer una foto me recuerda a la historia 2 vale toco il toco il icono de cambio de camera para elegir entre la camera frontal o superior que seria per color si seria ese de asi si y asi vale y es que lo que lo que es bueno del dx2 ose en el segundo es que tengo dos camaras una aqui y otra aqui vale si podrias hacerla tipo porque el normal el dx este es el dx2 pero el dx solo solo dejaba esta camara ose no tenia camara frontal y era y ahora es muy practico ose ahora es muy muy practico muy 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 practico ok después toque el icono de estrella y se deslice la pantalla a la izquierda o a la derecha o toque las flechas para elegir un efecto vuelva a tocar el icono de estrella para eliminar el efecto seleccionado toque el icono de presentación asi para ver sus fotos que seria aqui vale esta en un angulito y es tipo asi y tienes que coger una pila asi y hacer porque ni con el meñique puedes darle ose es imposible tienes que coger una pila y ir ole o si no sales y pones galerias que es muy facil dos video toque el icono de video en el modo principal para acceder pues el botón disparador o toque el icono circulito para empezar a grabar vuelvo a pulsar este botón o el icono correspondiente para detener de la grabación toque el icono de cam pues esto me da mal espiral cuando leo algo siempre se me para la mitad asi que voy a dejar un tiempo para que me salga válido vale ya esta toque el icono de cambio de cámara para elegir entre la cámara frontal o superior toque el icono de estrella y deslice la pantalla de la izquierda a la derecha y toque las flechas para elegir un efecto toque el icono de presentación para ver sus vídeos siempre con toque el icono de reproducción para ver el último vídeo grabado toque el icono de papelera para eliminar el vídeo nota el tiempo máximo de grabación será de un minuto por vídeo esto es lo malo porque cuando se te acaban los 60 segundos ya no puedes decir nada más o sea una caca absolutamente caca a ver yo tenía uno antiguo que era tipo así pero era de la Barbie era un asco brutal una caca un asco brutal vale y porque obviamente tenía o sea tenía 5 años cuando me lo compré y no se encontraba en mi text donde yo vivía o sea tenías que ir hasta España cogerlo y volver vale era un rollo va sabes entonces pues eso y me lo he pedido por navidad y me lo han dado porque si a veces no me querían dar pero después ya pues si entiendes o sea antes decían ay no aprovecha ese y dije que no se acaba la batería en un minuto o sea no entonces dije pues vale pues voy a pedir el Vitec el Deportal porque ya estaba tipo 3 horas por día estaba mirando durante una semana vídeos de Smartwatch vale pero quería que tuvieran fotos y móvil y no había ninguno entonces vi un anuncio de Deport 2 que era todo falso era que era nos han timado vale decían que se podía llamar y después cuando entré me llevó una desilusión porque no hay ningún icono de llamada ni en las descargas chicos o sea decían haz una llamada y después en plan vale voy donde está la llamada perdón a ver que no que no que no existe ningún Smartwatch que tenga juegos y GPS y llamadas no hay ninguno que tenga las 3 cosas o son llamadas o son juegos o es GPS una de las 3 cosas porque es que esto es imposible bueno voy a continuar porque presentación en esta sección podrá ver las fotos o vídeos realizados toque las flechas o deslice en la pantalla a la izquierda a la derecha para ver los archivos toque el icono presentación o sea es una cosita así con lo de YouTube vale pero después es tipo un tablo o sea os lo voy a enseñar porque si no lo entendéis es este que es un mouse toque el icono el de YouTube para reproducir un vídeo toque el icono de la papelera de la papelera para eliminar un archivo nota para eliminar todos los archivos toque el icono de la papelera y luego toque la flecha la flecha hacia abajo es un truco yo no lo sabía en serio al reproducir un vídeo toque los iconos se ve lo de las dos flechitas o avanzar más rápido grabadora podrá grabar hasta 60 segundos de su voz y modificarla con divertidos efectos sonoros puedes hacer como si fueran 100 personas en coro haces aleluya 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 o sea los efectos son un poco y también puedes decir hola me llamo Francesca hola me llamo Francesca hola me llamo Francesca y lo puedes modificar así ¿vale? después de ser de la potencia escucha los defectos activos y toca el icono de la estrella para ver los defectos de sonido desliza la izquierda a la derecha para elegir un defecto bueno ya lo sabes tengo que guardar como pero guardar la grabación con defecto como un archivo diferente eso lo odio porque después tengo que borrar el original tengo que ir siempre borrando el original pues el botón de monopolo solid vale ya lo sé para borrar un archivo de botón que recorre la papelera vale eh como veis juegos el ratoncito el ratoncito está atrapado ayúdale a comerse tantas porciones de queso como puedas y encuentro la llave para abrir la puerta toca los objetos en la pantalla para que el ratoncito se dirija hacia ellos y los sugerice caza troglodita esto muero al minuto uno o sea super difícil los animales quieren comerte ayuda a troglodita esquiva los obstáculos y lleva la comida a su familia tocando las huellas rojas o azules para elegir el siguiente círculo del camino foto a puzzle estas fotos no tienen sentido ordena las piezas del puzzle tocándolas para intercambiar su posición y ve la imagen completa los niveles más altos podrás ver tus propias fotos en el juego es verdad yo vi una y era un asco 6 detector de monstros hay monstros y misiones por todas partes utilice este detector de su reloj para encontrarlos y atraparlos consigue experiencia y suba de nivel para conseguir las recompensas especiales y encontrará los más de 60 monstros o sea son 60